Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit in versione ASMR. Tico, 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 tico. No scherzo, non sono capace io a fare queste cose e credo che non lo sarò mai. E quindi ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit, il penultimo di questo libro. E il racconto di oggi si intitola Rischia Morto. Di Brian Hodge. Buon ascolto. Ogni sera immancabilmente attaccava così. Musica, l'inizio di Mars, Bringer of War di Gustav Holst. Un brano musicale cupo e tenebroso, se mai ne era stato scritto uno. Poi la voce dell'annunciatore, allegra e scansonata come un pallone da spiaggia. Monti non sapeva dove avessero pescato quel tizio, ma era il migliore imitatore del celebre Don Pardo che avesse mai sentito su una rete. Annunciatore, voce. Mollate tutto ciò che state facendo, dopo sarà ancora lì. Avanti, unitevi a noi per trascorrere l'ora più imprevedibile mai offerta dalla televisione. Il Rischia Morto! Ogni sera, immancabilmente. Sette sere la settimana, dal vivo e niente repliche. Quando Monti controllò l'orologio per la prima volta, mancava ancora mezz'ora all'inizio dello spettacolo. Si afflosciò più mollemente sulla poltroncina del suo camerino. Aveva ancora tempo, tempo da ammazzare. Questo gli avrebbe sporcato di sangue le mani? Troppo tardi, Monti, sono già sporche! Così si sporse oltre il banco che aveva davanti e raccolse la sua bottiglia di Chivas Regal da un ripiano polveroso. E beve, fino a farsi bruciare la gola. Una piccola penitenza. Poco dopo si sentì deliziosamente intorpidito e poteva vivere di nuovo con se stesso. Era tempo che Monti Olson si mettesse a vivere anche con tutti gli altri. In spirito, se non con il corpo. Viaggiava sulle onde dell'etere, entrando a passo di valsere in luminosi soggiorni pieni di sole e in camere da letto, portato dalle ali della televisione. Sempre ospite gradito, mai intruso, sempre benvenuto. Spettacoli come L'Affare del Secolo e Scommetto Milione lo avevano reso un divo. E lo amavano? Oh, certo! Perché lui era l'uomo con i soldi. L'uomo dei premi favolosi. L'uomo dalla miniera d'oro inesauribile. L'uomo con il sorriso da un milione di dollari. In quei giorni gli era più difficile imbastire quel sorriso. Quello grande che gli arricciava agli angoli delle labbra fin quasi ai denti del giudizio. Ma ci riusciva. Un professionista rimane sempre un professionista. Chi se lo sarebbe mai immaginato? Si domandò forse per la milionesima volta da quando lui e tutti gli altri dotati di scarsa familiarità con il rigor mortis avevano scoperto di essere una minoranza sempre più in declino. Chi si sarebbe mai immaginato che avrebbero voluto essere ancora divertiti da persone come me? Monti si fortificò con un altro sorso di scotch e tirò più vicino la sua valigetta del trucco. In quei giorni si truccava da solo chiedendosi perché si prendesse quel disturbo. Il suo viso era leggermente più flaccido, la pelle un pochino più molle, con alcuni capillari rotti sul naso. Ma era sempre un autentico Clark Gable in confronto all'altra gente che partecipava allo spettacolo. Monti sbirciò le minuscole pieghe che si irradiavano agli angoli della bocca e degli occhi e fece del suo meglio per cancellarle con un po' di cerone. Vogliono ancora essere divertiti. Non era poi un concetto così pazzesco? Una volta che si aveva avuto il tempo di lasciarlo affondare nella propria mente già sotto shock. Perché agli inizi, quando improvvisamente si era scoperto che i morti non volevano più restarse nelle loro tombe o nei cassetti dell'obitorio, Monti si era trovato a girovagare per le strade. Non voleva granché. Solo evitare di trasformarsi nel pranzo di qualche cadavere appena risvegliato e magari mettersi in contatto con qualcuno il cui sangue scorreva ancora caldo. E aveva visto gli zombie nelle loro case. Erano ancora là, da soli, a coppie o in intere famiglie, parcheggiati davanti ai loro televisori come prima, come se nulla fosse cambiato. Anche quando tutte le reti nazionali e le stazioni indipendenti avevano interrotto le trasmissioni, staccandosi dalle onde dell'Etere come frutti da un albero morente, quelli erano rimasti a fissare gli schermi vuoti, ipnotizzati dal polviscolo luminoso. Gli spettatori morti, in attesa di essere intrattenuti e divertiti. La maggior parte degli zombie non era così intelligente. In massima parte erano poco più di dinosauri a due gambe alla ricerca del pozzo di bitume più vicino per sprofondarci dentro. Ma alcuni di loro, forse quelli che in partenza erano stati più dotati di cervello, erano riusciti a conservare una certa dose di intelligenza che di per sé costituiva già un'esperienza spaventosa. Si guardava in quegli occhi di vetro e si scopriva che non erano così vuoti come si era pensato. O sperato. Sì, là dentro le luci erano ancora accese e l'inquilino era ancora in casa. Anche se adesso le sue priorità erano cambiate. Brad Bernard era una creatura di questo genere. Lì a New York, quando era stato un produttore televisivo di grande talento, aveva al suo attivo una sfilza lunga di un braccio di programmi di enorme successo. Parecchie persone, prima del crollo di quello che Monti cominciava ormai a considerare con nostalgia il vecchio mondo, avevano detto che Brad Bernard era ormai pronto a lanciare una sua rete indipendente. Le cose erano andate in modo alquanto diverso, ma Brad aveva ottenuto ugualmente la sua possibilità. Un giorno Monti era tornato negli studi di L'Affare del Secolo, un anfiteatro enorme e silenzioso dove anche l'eco degli applausi passati si era spenta. Si era fermato al centro della scena, dove aveva trascorso quasi la metà dei suoi 43 anni sotto la gloriosa luce dei riflettori e si era preparato a farsi saltare le cervella e a morire là dove aveva vissuto le sue ore più belle. Però Brad Bernard aveva scelto quel momento per fare la sua entrata in scena. Non era molto diverso da come Monti lo ricordava se si eccettuava una maccatura grossa come un pugno alla tempia destra. Si muoveva più lentamente, con più attenzione, ma riusciva a conservare un minimo di orgoglio, un briciolo di arroganza, anche dopo la morte. Monti si era quasi pisciato nei pantaloni come un bimbetto di tre anni quando, guardando quegli occhi fissi, si era accorto che lo riconoscevano. Erano rimasti a fissarsi per un'eternità. «Un lavoro per te!» aveva infine detto Bernard. La voce non possedeva più il vecchio entusiasmo, ma ciò non significava che avesse perduto il suo potere di convincere. «Ehi, amico, non è necessario che tu la faccia finita proprio in questo momento!» era stato il succo del suo discorso. «Non adesso che lo spettacolo deve continuare!» «Non adesso che posso rilanciarti in onda!» «Non adesso che puoi reclamare il tuo posto sotto i riflettori!» E così era nato il primo programma televisivo concepito interamente per gli zombie. «Voglio la mia Z-TV!» Monti controllò un'ultima volta l'orologio e vide che l'ora zero stava per scoccare di nuovo. Succhiò un altro sorso dalla bottiglia di Civas e la posò sul ripiano quando qualcuno bussò alla porta del camerino, preciso come un cronometro svizzero di una volta. «Lo spettacolo comincia!» disse Brad Bernard quando Monti aprì la porta. «Sei di scena, amico!» «Già, come se avessi bisogno di sentirmelo ricordare ogni sera!» Monti si avviò fra le quinte, passando in mezzo ai macchinisti che controllavano i movimenti delle telecamere e le angolazioni dei riflettori. I ragazzi che facevano marciare lo spettacolo. Avrebbero dovuto fare qualcosa per la ventilazione, ma ormai erano mesi che Monti si era abituato al puzzo di carogna. Un professionista rimane sempre un professionista. «Come ci riesci?» gli chiedevano gli emiratori, quelli che non si perdevano una trasmissione. «Come fai a sembrare così sulla vetta del mondo ogni puntata?» «È facile!» rispondeva sempre lui. Bastava conoscere gli interruttori giusti e sapere come usarli. «Innesca la dedranina, accendi il sorriso, il fascino, il tono brioso, ma, altrettanto importante, spegni la mente!» «È la coscienza!» «Altrimenti quanto camperai insieme a te stesso se dovrai ammettere che la tua missione nella vita è quella di incoraggiare la gente a umiliarsi per un pugno di soldi?» Gli interruttori erano quasi tutti inseriti correttamente quando arrivò sul lato sinistro del palcoscenico, dietro i tre grandi portali. I tecnici stavano dando gli ultimi ritocchi alle gabbie. Di quando in quando, un sorvegliante doveva impedire la mano troppo zerante di qualche macchinista di impadronirsi di qualche pezzo di un premio. «Rick! Ti Rick! Ehi, ti conosco!» Una voce flebile della gabbia dietro la porta numero tre. Le luci si stavano abbassando ed era difficile stabilire a chi appartenesse la voce. Ha una donna ancora calda in grado di respirare, ovviamente, se si trovava in una gabbia. Monti era l'unico essere umano ancora vivo che poteva camminare liberamente fra quelle sacre mura. «Io ti conosco!» La voce era impacciata, ma chiara. Venne attirato dalla voce come una falena dalla fiamma, chiedendosi per un attimo come lei potesse parlare in modo così coerente. Tutti gli altri nella gabbia si erano resi alle dosi massicce di torazzina somministrate in precedenza. La buona vecchia torazzina. Rendeva così docili i vivi. Impediva loro di agitare il pubblico. È il maestro di cerimonie. «Ti prego, fammi uscire, ti prego!» La ragazza si inginocchiò sul pavimento della gabbia, il viso incorniciato dai lunghi capelli scuri. Portava una gonna rossa e bianca e un maglione bianco con il collo a V. Sporco e con una grossa M rossa sul davanti. Le sue mani si strinsero così forte le sbarre da sembrare quelle di un albino. «Ti prego!» Tutti gli interruttori inseriti, tutto pronto per la partenza. «Non posso farlo, bimba», disse lui e per scrollarle la paura di dosso la gratificò di uno splendido sorriso la Monty Olsen. Vi venne anche bene, proprio come ai tempi del vecchio mondo. Quando si riceveva un sorriso simile, si poteva raccontarlo agli amici. «Come puoi venderci in questo modo? Sei ancora uno di noi!» Lei fece un gesto verso le ragazze vestite in modo identico che dividevano la gabbia con lei. «Non sei uno di loro!» Stava cominciando a piangere, gli occhi vitrei ma non vuoti, mentre combatteva la sua battaglia in salita contro la Torazina. «Come puoi venderci?» «Ti prenderebbero in qualche altro modo, perché oggi sono loro i più forti. Sono anche quelli che mi pagano, in un certo senso. Mi lasciano vivere.» Monti si chinò accanto a lei, assumendo un tono quasi paterno. «Ricordi Andy Warhol?» «Sì.» «Parecchio tempo fa disse che chiunque poteva essere famoso per quindici minuti.» «Lo ricordi?» «Bene, questa è la tua serata, bimba. Stasera ti vedranno tutti da una costa all'altra.» Lei lo fissò, cercando ancora un briciolo di comprensione, e le sue dita si abbassarono lungo le sbarre. Osservò il punto che avevano stretto fino a un istante prima. «Cerca di cavartela bene», disse lui, e la lasciò. Doveva ancora fissarsi il microfono all'occhiello della giacca. «Ci siamo!» chiamò Bernard dall'ombra. «Cercate di sembrare vivi, ragazzi.» Bernard fece un cenno altizio dalla cabina di suono, un giovanotto dall'aria eternamente giovanile, soprannominato Testa Morta, visto che era morto e poi renato con addosso una maglietta dei Grateful Dead. Il lavoro di Testa Morta consisteva nel suonare le musiche adatte nei momenti adatti. Doveva manovrare parecchie cassette e riusciva a tenerle sempre in ordine. Musica. Mars. Bringer of War. Pulsante di toni minacciosi. Luci. Incrascendo dalla penombra. Telecamere. Spie rosse che ammiccano. Obiettivi che si mettono a fuoco. Volti grigi e molli che fissano dai mirini per l'inquadratura. Annunciatore. «Mollate tutto ciò che state facendo, che non scappa via! Avanti! Unitevi a noi per trascorrere l'ora più imprevedibile mai offerta dalla televisione! Il rischio è morto!» Monti si incollò in faccia all'enorme sorriso e avanzò sotto le luci, fascinoso ed elegante nei calzoni abbondanti e nella giacca sportiva. Le porte uno, due e tre si trovavano alla sua sinistra, mentre la gigantesca ruota delle opportunità era alla sua destra. Percorse tutto il palco fino all'orlo delle assi di legno, mentre il sipario si levava. L'ultima barriera veniva rimossa. Ed eccoli là. «Il suo pubblico!» Sedevano composti, un migliaio o a volte due migliaia di occhi fissi e immobili che lo osservavano. Alcuni applaudivano, o almeno facevano del loro meglio, sbattendo goffamente le mani quasi fossero un paio di pesci molli e sventrati. Altri gridavano con un suono di bestiame soddisfatto che muggisse dolcemente nella notte. Un mare di volti grigi, di occhi d'agata. Lasciate che vi intrattenga, lasciate che vi faccia sorridere. Eccoci qua, questo è il rischia morto, io sono Monty Olson, che pubblico magnifico stasera per Diana. Ehi, là fuori! So che non vedete l'ora che il divertimento cominci, almeno quanto io odio questi lunghi monologhi, quindi perché non attacchiamo subito? Che ne dite? Il pubblico nello studio mugugnò il suo assenso e diverse teste grigie e acchiazze anuirono qua e là. Monty tornò a lunghi passi verso la grande ruota, sentendosi più vivo che mai. Le luci, le telecamere, l'odore del trucco. Non conosceva alimento migliore. Una sola cosa prima di cominciare. Ripassiamo insieme le regole, d'accordo? Sono abbastanza semplici, adatte a quasi tutti i vostri cervelli sparsi là fuori. Ogni concorrente ha diritto a far girare la ruota una volta sola e noi vedremo subito se ha vinto o perso. Se la ruota si ferma su un numero, vincerà uno dei nostri splendidi premi dietro le tre porte. E date rete al vostro vecchio zio Monti. Stasera abbiamo davvero qualcosa di speciale là dietro. Una sola parola di avvertimento. Non fermatevi sul grande no, no. Sappiamo tutti che cos'è e che cosa significa. Non è vero? Mentre Monti dava un colpetto al rigonfio sotto la manica, dal pubblico si levò un cubo borbottio, che probabilmente era una risata. Allora, chi è il primo concorrente di questa sera? L'esta morta cominciò a suonare Opere di Woman di Roy Orbison, mentre l'annunciatore presentava la figura che cominciava a muovere i suoi primi passi sul palcoscenico. È una ragazza di Manhattan che ha fatto carriera. Ha diretto l'ufficio vendita e i corsi di tirocinio presso una banca del centro. Per la prima volta, rischia morto, un bel applauso a Cynthia! Di nuovo, quello sporadico applauso da pesci morti. Si levarono parecchi gemiti che nel vecchio mondo sarebbero stati fischi e lupati. Cynthia avanzò verso la ruota trascinando i piedi, alta e spigolosa. Nei resti ammuffiti di un completo gessato d'ufficio. La sua bocca era una crudele macchia vivida di rossetto su un viso bianco che aveva la grana del cemento secco. Benvenuta, Cynthia, benvenuta! Disse Monti. Per Diana, hai tutta l'aria di una signora che ha ogni pezzo al posto giusto. Allora dimmi, qual è il segreto del tuo successo? Il cervello, disse lei con un sorriso da paraplegico. Monti pescò nel profondo e sbottò in una sonora risata gutturale. La fece avvicinare alla ruota e lei strinse uno dei numerosi pioli piantati lungo il bordo e diede una forte spinta. Una telecamera in verticale trasmise l'immagine rotante sui monitor dello studio. I numeri e i rispettivi premi superarono la linguetta metallica d'arresto, dapprima con un'immagine indistinta, poi sempre più nitidi mentre la ruota rallentava. Alla fine la linguetta si fermò sopra un enorme numero due. Ehi, che ne dite? Stasera abbiamo una grossa vincita! Il primo colpo! strillò Monti e accese il sorriso da denti del giudizio. Ditele che cosa ho vinto! La porta numero due si sollevò verso l'alto, rivelando un espositore che sembrava la stanza sul retro di una macelleria ben fornita. Tavolini in acciagli inossidabile e scaffali lacati di bianco erano carichi fino a crollare. Un gemito di invidia serpeggio fra il pubblico. I monitor dello studio e i televisori a casa trasmisero allora spezzoni di repertorio che mostravano un quartiere periferico della città ridotto come una zona di guerra. Soccorritori in lacrime strisciavano fra macerie ancora in fiamme, estraendo vittime intere o solo parti delle stesse da rottami ormai riconoscibili. «Chi potrà mai dimenticare il 23 maggio scorso?» disse l'annunciatore, allegro e scansonato come sempre. «Chi può aver scordato il volo 901 in partenza dall'aeroporto Hoher?» si è schiantato a terra un solo minuto dopo il decollo, ma quello che rimane ancora oggi, il terzo più grave disastro aereo nella storia del nostro paese, è il tuo premio, Cynthia. Direttamente dai frigoriferi dell'obitorio della Contea di Cook, «Ecco i resti del volo 901, con gli omaggi di Rischia Morto!» Ciò che ancora restava della compostezza professionale di Cynthia fu abbandonato in un batter d'occhi, non i suoi perché erano sempre fissi. Avanzò verso la porta numero due, con andatura rigida e sbilenca, lasciandosi cadere sul tavolo più vicino e rovesciandolo fra una valanga di frammenti umani assortiti. Due telecamere scattarono in inquadrature ravvicinate e ripresero la sua delizia, il dolce sapore della vittoria. Il concorrente successivo fu una signora dall'aria perbene, con un vestito a fiori stretto in vita da una cintura e una collana di perle. Attraverso i capelli arruffati e una conciatura che un tempo doveva essere stata piuttosto accurata, si intravedevano due orecchini d'oro. Si chiamava June, era una casaringa di Mayfield nell'Ohio e si aggiudicò a sua volta a un premio pronta a cassa vincendo con aria orgogliosa la coscia e il polpaccio di quello che l'annunciatore descrisse come un maratoneta. Poi fu la volta di un muratore di Brooklyn di nome Carl che entrò fra le note di Born in the USA cantata da Bruce Springsteen. La sua camicia da lavoro blu era macchiata in diversi punti, là dove aderiva a piaghe sulla pancia e sul torace, e le sue spalle sembravano larghe come lo sportello di un frigorifero gigante. «Ehi, Carl! Cerchiamo di andarci piano, intesi?» disse Monti con una risata. «Questa ruota deve durare per il resto della serata, lo sai!» Carl fece un grugnito. E la folla si lasciò sfuggire un gemito soffocato quando lui agguantò un piolo. Per zittirsi non appena ebbe assestato una poderosa spinta alla ruota. Poi, con il suono di una grossa carota per metà marcia che si spezzasse in due, il braccio dello zombie si staccò dalla spalla. Il braccio scivolò fuori dalla manica come un grosso verme grigio, la mano ancora stretta intorno al piolo. Carl rimase a fissare sbalordito mentre il suo braccio girava insieme alla ruota, simile a un bambino disperatamente deciso a restare a bordo della giostra. Poi Carl guardò Monti, la bocca spalancata, gli occhi bovini nella loro stupidità. Silenzio. Tranne gli schiocchi della linguetta metallica, poi un faro intermittente rosso e lo squillo di una suoneria che segò l'aria nello studio. «Oh, oh, ci siamo! Il grande nono!» gridò Monti. «L'autosmembramento è motivo sufficiente per la squalifica automatica!» Infilò una mano sotto la giacca ed estrasse una calibro 38 a canna lunga, puntandola alla testa dello zombie. «Dolente, Carl!» Era stata una bella spinta! Il pubblico emise un gemito addolorato allo sparo, al fungo grigio e marrone che scatturì dalla nuca di Carl, al tonfo del corpo sulle assi del palcoscenico. Un paio di inservienti si fecero avanti per trascinare via i resti. Al lavoro finito, uno dei due si leccò le dita. Monti rimise la 38 nella fondina e fece un ampio sogghigno stringendosi nelle spalle. C'era sempre qualche sorpresa inaspettata al rischio a morto e così lo spettacolo proseguì con una ininterrotta e vacillante parata di non morti che venivano a reclamare i loro premi. Sean, il barbone da spiaggia californiano del cui petto sporgevano ancora schegge di una tavola da surf, se ne andò con una confezione di quattro teste di direttori televisivi poco simpatici a Bernard. Millicent, che era rimasta uccisa poco dopo il suo ballo della debuttante, vinse il braccio mastodontico di un sollevatore di pesi e se lo mise intorno al collo come una raffinata pelliccia. E così via. A quanto pare la vecchia pendola sul muro ci informa che il tempo stringe, ma cerchiamo di farcene stare un altro, d'accordo? A chi tocca adesso? Ebbene, Monti, adesso abbiamo un autentico abitante dell'East Side i cui interessi principali sono il ballo a muso duro e i graffiti. Un metro e ottantacinque, capelli azzurri, puoi chiamarlo semplicemente Zanna. Una figura alta e imponente sbucò sul palco, resa ancora più torreggiante dagli spicchi di capelli azzurri che gli esplodevano dalla testa in ogni direzione. Sotto la camicia a rete nera il petto incavato era attraversato da catene. Il labbro superiore era stato divorato fino al naso, dando al suo viso una perpetua espressione ringhiante. Zanna preve posto la ruota. L'ultimo giro della serata, Zanna! Cerchiamo di dare una spinta a Gagliarda! E la spinta fu davvero poterosa. La ruota sembrò girare in eterno, rallentando finalmente con gli schiocchi della linguetta. Alla fine si fermò su un grande tre e il pubblico esplose in flaccidi applausi. Ehi, 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 che fortuna! Ruggì Monti. Da quanto poteva capire anche Zanna stava sogghignando. Un altro grosso vincitore! Che cosa abbiamo in serbo per lui? Sono giovani, sono nubili, sono arrivate fresche e fresche da Hollywood. E sono tutte tue, Zanna, l'intero cast femminile del più grande successo cinematografico della primavera scorsa. Massacro alla festa delle ragazze Pon Pon. La porta numero tre si era ormai sollevata, rivelando una gabbia piena di aspiranti stellini tutte vestite con l'identico costume bianco e rosso. Che peccato! Dopo tutti quegli anni passati a sperare e a sognare la grande occasione, quell'apparizione in tv nell'ora di maggiore ascolto, e adesso doverla perdere a causa della torazzina. Le aveva smorzate di brutto, lasciandole eccitate quanto un cesto di verdure, tranne... Il pubblico fu pervaso da un'ondata di eccitazione frenetica. C'era gente in piedi, con le braccia che ondeggiavano come spighe di grano nella brezza estiva. Altri pestavano i piedi per terra senza seguire nessun ritmo apparente. Testa morta inserì una musica nuova, chitarre arrabbiate e voci stridenti. Non era certo il vecchio Frankie. I Dead Kennedys, magari. Tranne... Zanna sembrava preso da una frenesia tutta sua e contorceva al rit... E sì, contorceva al ritmo della musica come uno spastico durante una crisi. La sua testa dondolava come una mazza chiodata. Diversi concorrenti tornarono sul palco attirato dall'atmosfera festosa dei titoli di coda. Cynthia, con parecchio succo del volo 901 impiastricciato sul viso. Sean e la sua confezione refrigerata di teste. Millicent, che si modellava intorno al collo del suo braccio nuovo. Zanna ebbe una convulsione e andò a sbattere contro Cynthia. Un orecchio schizzò valeggiando sul palco come un minuscolo frisbee amaccato. Eppure Monti non riusciva a distogliere lo sguardo dalla ragazza con la quale aveva parlato appena prima dello spettacolo. Se ne stava barbicata le sbarre anteriori della gabbia, lottando contro il torpore della torazzina, mentre le compagne erano afflosciate in mucchietti catatonici. Le sue nocche spiccavano bianche contro le sbarre. Non può farlo, non dovrebbe essere in grado di farlo. aveva un'area smagrita, dolorosamente sottile e doveva essere passato parecchio tempo dall'ultima volta che se le ha lavato i capelli. Le sue labbra tremavano e gli occhi spiccavano enormi contro il pallore del viso. occhi che fissavano, che accusavano, occhi che cominciarono a risistemare quegli interruttori interni. Il sorriso si spense, il tono brioso si risolse. Aiutami, ti prego, disse lei, anche se con il frastuono che regnava nello studio lui non poteva sentirla, ma leggere solo le sue labbra. Ogni cosa al suo prezzo. Qual è il tuo? E questo? Dopodiché, in un patetico tentativo di seduzione, la ragazza armeggiò con l'orlo del maglione e lo abbassò. Le unghie spezzate lasciarono striature rosse sulla sua pelle. Poi rimase là, stringendo una sbarra in una mano e l'orlo del maglione con l'altra, lasciando valutare a Monti il suo prezzo. Improvvisamente Monti provò l'impulso di vomitare, non dinanzi alla prospettiva del destino che attendeva lei, ma di fronte a una breve occhiata a ciò che lui era diventato. Ogni cosa al suo prezzo. Qual è il tuo? Nell'assurda semplicità della sua offerta, lei era riuscita in qualche modo a dimostrargli una verità che fino a quel giorno gli era sfuggita. L'avidità è l'unica cosa che la morte non può sconfiggere. L'amore può soccombere dinanzi alla morte, come pure la lealtà, anche l'amicizia e l'onore, perfino la morale, la dignità e l'umanità. Ma non l'avidità. Oh no! L'avidità possiede una sua vita indefinita e può tecchire in un suolo pietroso capace di uccidere qualsiasi altra cosa. Offrì alla ragazza il suo primo sorriso sincero dopo anni di falsità. Monti impugnò il calcio della 38 sotto la giacca. Almeno sarebbe un modo pietoso per uscirne e poi una pallottola per me magari. Ne strasse la pistola lasciandola penzolare lungo il fianco. La ragazza vide e capì. E rialzando l'orlo del maglione accettò. I suoi occhi appannati si chiusero e il viso si sollevò leggermente verso un cielo invisibile. Fai alla svelta! Sembrava chiedere. E poi una pallottola per me? No, non posso farlo, non è possibile. Perché il cielo mi perdoni? Ho troppo bisogno di questo palcoscenico. Fare alla svelta? D'accordo, questo poteva farlo. Ma non appena ebbe sollevato a metà la pistola se la sentì strappare di peso dalla mano. Monti non si era accorto che Brad Bernard gli era sgusciato accanto. Comunque adesso si trovavano faccia a faccia anche se quella di Bernard era un po' putrefatta. Quel figlio di puttana era più astuto di quanto sembrasse. Questo Monti lo sapeva. Stando alle apparenze era anche più rapido e più forte. Prima che Monti potesse fare un gesto Berner degli puntò la pistola contro la parte bassa della coscia e sparò. Eccetuata la detonazione l'effetto fu quello di essere colpito da un blocco di cemento. Monti si sentì togliere la gamba di sotto e crollò di fianco sul pavimento assaggiando la polvere. Lo sparo fu come un segnale che bloccò tutti. La voce conclusiva dell'annunciatore la danza di Zanna il pavoneggiarsi di Millicent perfino Testa Morta interruppe la musica. Tutto si fermò. All'infuori del silenzioso scorrere dei titoli di coda sul monitor. Di nuovo Monti fu al centro dell'attenzione di ognuno in fondo a un mare di occhi che lo fissavano. Si sollevò con un grugnito su un gomito con un rivolo di sudore gelato che gli scendeva dallo scalpo. Le luci non sembravano più così calde. Alzò lo sguardo verso gli occhi acquosi di Bernard. Sarebbe accaduto lo stesso disse Bernard. Indicò lentamente con la testa ammaccata la porta numero tre. Lei non c'entra. Monti rimase bocca aperta. Forse in quel momento i suoi occhi erano fissi e il suo cervello vuoto come quelli di quasi tutti coloro che lo attorniavano. Allora perché fu tutto quello che riuscì a dire? Gli indici di ascolto. È ora di cambiare. Il tuo indice di gradimento sta calando. E mentre Monti rifletteva su questo grande imponderabile della sua professione Bernard gli voltò semplicemente le spalle e si allontanò. I titoli continuarono a scorrere e tutti gli altri cominciarono a muoversi di nuovo facendosi più vicini con le telecamere. Il pubblico salì sul palco dall'anfiteatro da soli a coppie o in intere famiglie. Tutti si dirigevano verso di lui con occhi fissi famelici. Il mio indice di gradimento calando sta calando. Quel pensiero era troppo gravoso e spezzò in due la sua mente già fragile come una banale matita. Sentì il primo strattone insistente alla ferita nella coscia. Vide le telecamere farsi più avanti. Ma adesso gli occhi del mondo sono puntati su di me pensò per non parlare delle sue mani e di parecchi denti. Un audience entusiasta. Bene grazie per aver ascoltato fino a qua e come già stavo facendo nei due precedenti episodi di No Edit vi farò vedere tre libri e voterete nei commenti quale vorrete quale vorreste che io leggessi dopo che finisco il libro dei morti viventi. Vi riprendo così vi faccio vedere. allora i candidati sono 1 Groucho Marx Memoria di un irresistibile libertino una sorta di biografia scritta allo stile di Groucho Marx 2 David Lynch in acque profonde sono le memorie delle sue sedute di meditazione trascendentale e poi Roald Dahl un gioco da ragazzi e altre storie sono tutte storie brevi o più o meno brevi di Roald Dahl ok nei commenti potete votare il vostro libro preferito preferito che vorreste che io leggessi dopo il libro dei morti viventi un premietto per chi ha ascoltato sino a qua vi ringrazio sto morendo di sonno sono le 2 25 buonanotte e al prossimo video ciao